Dio ha unito la prima coppia di esseri umani. Perché? Perché è la volontà di Dio. Perché in realtà, contrariamente a quello che tante persone dicono, perché appunto non sanno funzionare, far funzionare il matrimonio e si lamentano, in realtà il matrimonio è una benedizione. Nel matrimonio c'è protezione, nel matrimonio c'è tuto, nel matrimonio c'è conforto, nel matrimonio c'è comprensione, nel matrimonio c'è fedeltà, nel matrimonio c'è amore. E tutte queste cose, Dio, c'è intimità, tutte queste cose Dio le ha riservate nella coppia, nel matrimonio. E quindi io vi voglio benedire dal mio cuore, perché sono sicuro che nel cammino che voi farete assieme, la benedizione di Dio sarà su di voi, Dio illuminerà il vostro percorso, vi darà direzione e anche se ci saranno momenti difficili, come per tutti accadono, Dio vi darà la via di uscita. Se voi camminate nella fede e se voi eseguite le istruzioni, avrete un matrimonio da Dio. Io vi darò la via di uscita. Alla via di uscita. Padre, crediamo che sono stati le Tue mani, fin dal principio. Signore, tu hai unito l'uomo alla donna, gli hai fatto un aiuto convenevoli e noi nel nome di Gesù, che è il nome al di sopra di ogni altro nome, noi crediamo che queste mani saranno raffermate come sarà raffermata la loro relazione d'amore per dare testimonianza, in pubblico e privatamente che loro appartengono a te, perciò ti diamo tutta la lode e la gloria nel nome di Gesù. Io rilascio la benedizione sopra di voi. Amen. Con l'autorità di cui sono stato investito, dallo Spirito Santo e dallo Stato italiano, e nel nome di Gesù io vi dichiaro marito e moglie. E quello che oggi viene unito davanti a Dio, l'uomo non lo separe. Lo sposo può baciare la sposa. Grazie. 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 Bebe! 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 Gotta sing Oh I will sing Of the goodness Of God Yeeaahh Yaay Question Grazie a tutti.